Nel corso del diciottesimo congresso IOM, alla presenza del ministro Beatrice Lorenzin, si è parlato di come oggi l'oncologia possa beneficiare di farmaci innovativi, sia biologici che immunoterapici, che possono rendere le cure sempre più personalizzate, efficaci e meno tossiche, migliorando quindi anche la qualità di vita dei pazienti. E per far sì che i nuovi farmaci possano essere disponibili per tutti i pazienti, il Governo ha stanziato un fondo dedicato proprio ai farmaci innovativi, accogliendo l'appello dei clinici e dei pazienti. Per la prima volta un fondo dedicato ai farmaci innovativi, che opportunità per i pazienti oncologici? Ma è un'opportunità importante perché i farmaci che sono arrivati e che stanno arrivando nel prossimo anno avranno un impatto importante sulla sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti e i budget attuali rendono difficoltoso la gestione da parte della sanità pubblica. Questo ci permetterà di mettere insieme sostenibilità, che è un nostro dovere istituzionale, rispetto a una buona possibilità e la migliore possibilità di cura per i nostri malati. E' ovviamente soltanto il primo passo di un progetto che vuol dire rivedere il farmaco a livello di un contesto diverso, che vuol dire valore e costo, che vuol dire gestione degli registri onco-aifa, vuol dire ricontrattazione dei pezzi dei registri, vuol dire ufa di aree, vuol dire introduzione di biosimilari e così via. Partiamo dal fondo perché ne abbiamo bisogno domani, ma dobbiamo ristrutturare il sistema. Farmaci sempre più innovativi significa anche terapie sempre più personalizzate. Quali pazienti in particolare beneficeranno di questo fondo? Di questo fondo verificeranno le principali patologie, perché ora abbiamo terapia target e immunoterapia che ci danno possibilità in diverse linee di trattamento di avere cure estremamente efficace, come state detto, non nel miglioramento di qualche mese, ma lunghe sopravvivenze e conicizzazione della malattia. Progetti IOM per quello che può essere opportunità di cura per i pazienti sempre più personalizzate e anche per migliorare la qualità di vita? I progetti di cura oggi nel 2016 per i pazienti oncologici ovviamente risentono delle nuove opportunità terapeutiche che abbiamo a nostra disposizione e delle conoscenze molto più approfondite relativamente alla biologia del tumore. Oltre a questo noi conosciamo anche adesso la possibilità di trattare i nostri pazienti con i farmaci immunoterapici. Quindi si sta aprendo un altro orizzonte nei confronti della lotta contro i tumori. Tutto quello che noi oggi abbiamo a disposizione comunque implica un costo notevole per il sistema sanitario nazionale e il patto per la salute che IOM ha richiesto alle istituzioni e che è stato accettato è sicuramente un passo avanti nella lotta contro il tumore. Lotta che comunque stiamo combattendo bene perché i dati IOM e Airtum 2016 ci stanno dicendo per la prima volta che si stanno riducendo in termini assoluti le morti per cancro. Nel 2013 rispetto al 2012 abbiamo registrato oltre mille morti di meno per neoplasia e questo è un primo segnale positivo oltre a tanti altri. Altri segnali positivi sono rappresentati dal fatto che sono vivi oggi più di 3 milioni di italiani che hanno avuto una diagnosi di tumore e un terzo di questi noi li possiamo considerare guariti. Quindi grandi segnali positivi nella lotta contro il cancro. Anche abbiamo visto numeri che fortunatamente ci dicono che il cancro è una malattia sempre più controllabile e in alcuni casi guaribile. È importante quindi anche avere un'attenzione alla qualità di vita per tutti quei pazienti quando hanno superato la malattia? Questa è la grossa novità. Oggi che abbiamo malati che hanno lunghe aspettative di vita per nostra fortuna e situazioni in cui la malattia si cronicizia ovviamente nascono nuovi bisogni che sono bisogni riabilitativi, che sono bisogni di riabitudine a aspetti psicosociali, che vuol dire assetti lavorativi e così via, che vuol dire riabilitazione oncologica e dobbiamo imparare a fare tutto questo che è un'importante novità che ci viene però dall'innovazione e dai grossi vantaggi che oggi le cure danno in oncologia. Credo anche l'importanza proprio per queste persone che hanno comunque una lunga sopravvivenza di qualità di vita. Questo significa anche seguirli in quelli che sono i loro bisogni successivi? Certo, bisogni che si stanno conoscendo sempre di più proprio perché stanno sopravvivendo questi pazienti o queste pazienti per molti anni possono guarire e possono emergere quindi delle patologie successive legate per esempio a tossicità tardive delle terapie che sono state fatte per debellare il tumore oppure altre patologie che insorgono con l'avanzare dell'età oppure certe volte la comparsa di secondi tumori. Noi dobbiamo essere pronti come oncologi a cogliere qualsiasi di questi bisogni e a cercare di dare risposte a questi bisogni che sono anche bisogni nuovi rispetto a quelli che dovevamo affrontare vent'anni fa. Qualità di vita significa anche occuparsi dei pazienti ma anche di tutto il nucleo familiare. In quest'ottica forse anche delle iniziative che li coinvolgano a raccontare in prima personale le proprie storie? Certamente perché noi vivendo tra i pazienti ci siamo sempre accorti che i pazienti scrivono molto ma non scrivono molto solo i pazienti e non scrivono soltanto della loro malattia ma anche di altri aspetti che dalla loro malattia e da questo percorso di sofferenza possono trovare spunto. Perché scrivere è un modo con cui uno vince le proprie paure, le proprie ansie e nello stesso tempo può scrivendo raccontare a chi deve ancora iniziare questo percorso di malattia che può in qualche modo affrontarlo, può superarlo, può vincerlo. Quindi è un modo con cui noi che abbiamo deciso di affrontare questo mondo della scrittura terapeutica in ambito oncologico istituendo un premio letterario Federica che ha già visto una sua prima edizione nel maggio 2016 è un modo con cui vogliamo aiutare i pazienti ad esprimere le loro paure, è un modo con cui vogliamo aiutare chi ancora non è paziente ad affrontare il lungo percorso di malattia ma è anche un modo con cui vogliamo dire alla cittadinanza guardate che questa malattia si può vincere. Ma se le nuove cure sono in grado di rendere il cancro una patologia controllabile nel tempo e in alcuni casi addirittura guaribile è però fondamentale sottolineare che la prevenzione è lo strumento principale per abbattere il numero di persone che ogni anno si ammalano di tumore e le campagne messe in campo da IOM si rivolgono a tutta la popolazione ma soprattutto ai giovani con il festival della prevenzione e la campagna meglio smettere 2.0 per far conoscere ai ragazzi i danni del fumo. Parliamo di prevenzione, un capitolo fondamentale, iniziative IOM anche quest'anno molte dirette anche ai giovani. Sì abbiamo lavorato moltissimo soprattutto sui giovani sul problema del tabagismo è noto che gli adolescenti italiani sono quelli che fumano di più che soprattutto imparano in quella fascia di età per cui lavorare, fare cultura, alcuni giovani hanno prodotto un cortometraggio per altri giovani, dobbiamo far nascere la cultura della qualità di vita tra i giovani e questo penso che sia un impegno di IOM. E' anche il nome del progetto nuovo, Festival della Prevenzione, quindi è anche un nome che in realtà dà anche un indirizzo a una strada diversa rispetto al passato? Assolutamente sì, andremo in 11 città con un camion, con dei percorsi per la salute spiegando ai cittadini, spiegando agli studenti, andando nelle scuole e spiegando come dobbiamo avere dei corretti modi di vita e soprattutto cercare di non ammalarci per questa patologia che vuol dire fare un grosso investimento per il futuro sia di salute che di risorse. La prevenzione è importantissima, più prevenzione facciamo minore sarà il numero dei pazienti oncologici di domani e proprio per questo IOM da molti anni si sta applicando e interessando a progetti di prevenzione. Quest'anno partirà un altro progetto di prevenzione che è focalizzato soprattutto sulla prevenzione per quanto riguarda il fumo e che riguarderà quindi delle campagne informative che verranno fatte in scuole, quindi presso i ragazzi giovani perché sappiamo che uno dei problemi italiani è proprio una percentuale elevata di ragazzi che fumano e che cominciano prima dei 18 anni d'età. L'informazione ai pazienti, l'importanza anche di un paziente consapevole della propria patologia, la possibilità oggi di tante terapie innovative però forse è importante che il paziente sappia quale può essere la migliore per lui? Ha individuato esattamente quella che è poi la mission dell'associazione di pazienti che rappresento, l'IMAC, noi diciamo sempre che l'informazione è la prima terapia perché un paziente informato combatte meglio, è più protagonista anche del suo percorso terapeutico anche faticoso e io sono qui a rappresentare i pazienti anche per averlo vissuto sulla mia pelle e sapere di più significa poter gestire anche gli effetti collaterali chiedendo ai medici una maggiore attenzione, significa poter comprendere quali sono le opzioni terapeutiche che vengono date come disponibili in quel dato momento per quella particolare patologia e quindi il paziente si sente, è protagonista e quindi si combatte meglio. Noi da ormai quasi vent'anni abbiamo scelto proprio questo, cioè di fare informazione e sostegno, assistenza al malato su tutto il territorio nazionale per cui l'Associazione Italiana Malati di Cancro Parenti e Amici è presente con 40 punti informativi negli principali centri di cura in tutta Italia con degli psicologi formati ad hoc che accolgono i malati e i loro familiari e danno le prime risposte, le prime informazioni che poi sono utili anche nel rapporto con il medico perché un paziente informato è in grado anche di modulare meglio la domanda e che tipo di informazioni? Le informazioni vanno sia dai trattamenti attualmente disponibili, dai più tradizionali la camioterapia agli anticorpi monoclonali fino anche alle nuove frontiere dell'immuno-oncologia che sono veramente un territorio se vogliamo di speranza e speriamo che sia la terza rivoluzione in oncologia anche per alcune forme tumorali che fino a ieri non erano curabili o addirittura non erano guaribili e quindi l'informazione che noi diamo è anche su queste nuove terapie ma non c'è solo l'aspetto strettamente sanitario della malattia, l'importanza va data anche agli aspetti sociali, il malato è persona prima di tutto, è persona, ha una famiglia, una storia dietro di sé, ha un lavoro probabilmente e quindi la malattia impatta su tutti questi aspetti e di questo anche è importante parlare, abbiamo un libretto sui diritti del malato di cancro che riguarda la disabilità oncologica con tutti i benefici connessi a questo tipo di riconoscimento sia in ambito lavorativo sia dal punto di vista anche di beneficio economico per il malato e anche per il familiare perché il familiare non dimentichiamoci che vive purtroppo da spettatore quindi anche con una grande sofferenza la malattia del proprio caro, lo accompagna le visite, ha necessità anche il familiare di essere informato e di poter usufruire di tutti gli strumenti anche giuridici ed economici che gli consentano di svolgere questa attività preziosissima di assistenza e supporto che è veramente insostituibile.